L'impasto della sfoglia emiliana è semplicissimo. Tre sono gli ingredienti. Farina, uova e tanta passione. Bisogna impastare bene e la giusta manualità si acquisisce con l'esperienza. Una sfoglia perfetta come da tradizione deve avere il giusto spessore essere elastica e porosa così da assorbire meglio il ragù e la besciamella.